Con Ciriaco Di Gregorio, in questo primo gazebo allestito dal Movimento 5 Stelle di San Salvo per il referendum che si tirà il 4 dicembre. Questo allestimento molto molto particolare. Ciriaco, un lavoro certosino, perché tutto questo impegno? Perché io ci credo nella Costituzione e voglio che si vota no. Poi ognuno perlomeno deve essere informato nella Costituzione prima di votare. Poi la scelta di votare è sua, non è che glielo devo dire io. Questo è solo per fare informazione a qualcuno che vuole leggere qualcosa di travaglio. Ciriaco, molto impegno nel fare tutto ciò che stiamo guardando in questa mattinata soleggiata di San Salvo. Perché impegnarsi ancora in politica? C'è ancora un motivo per farlo? Certamente, noi la politica non la possiamo abbandonare. Anzi, io non ho fatto mai politica. Ho votato sempre credendo a quelle che dicevano. Destra, sinistra, centro. Ho votato un pochino tutti, però i risultati vediamo a che punto siamo arrivati. Da quando ho cominciato a seguire il Movimento 5 Stelle, che sono adesso 5 o 6 anni che seguo il Movimento 5 Stelle, sto vedendo che quello che dicono fanno. E finché continua così io sarò sempre 5 Stelle. Se poi cambiano pure loro, cambierò pure io.